Un normale controllo della stradale porta a un ritrovamento da record nel sedile posteriore di una Volvo arrestata a una coppia milanese. Un operaio 22enne vittima di un infortunio sul lavoro a Staranzano. È grave. Oltre mille richieste di finanziamento presentate dalle imprese artigiane della regione. Una crescita del 36% in un anno. Primo giorno di università per migliaia di ragazzi nelle varie sedi dell'Ateneo di Udine. Il 13 novembre inaugurazione ufficiale con Mattarella. Scorpacciata di gol nel test contro la Primavera. Ha giocato alle 12.30 per entrare nel clima della sfida di pranzo contro la Fiorentina. A tutti voi buonasera, bentrovati al telegiornale di Udinese TV. Tra poco tutte le notizie di oggi con davvero tanta cronaca in compagnia con l'ausilio al web di Francesco Pezzella. Buonasera Francesco. Buonasera Giorgia. Ma prima come sempre la pagina dedicata all'Udinese che si prepara alla sfida contro la Fiorentina. E allora buonasera anche ad Alice Mattelloni. Buonasera Giorgia, buonasera a tutti e come sempre noi apriamo con l'allenamento dell'Udinese un allenamento inconsueto per quanto riguarda l'orario. Perché quest'oggi i ragazzi di Giri del Neri si sono allenati alle 12.30 per adattarsi a quello che sarà l'orario sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista alimentare. L'orario del lunch match di domenica della gara contro la Fiorentina. Sono rientrati gli ultimi nazionali e diverse. Sono state le prove proprio in vista della prossima gara. Stefano Giovampietro. Giovedì mattina un allenamento per l'Udinese di Del Neri che comincia a prendere le misure in senso anche stretto proprio alla partita contro la Fiorentina. E quindi allenamento in orario che sarà quello del match. 12.30 è stato il momento d'inizio della seduta per i ragazzi di Del Neri con praticamente una partitella giocata contro i ragazzi della primavera anche con qualche prestito qua e là. È stato un test molto intenso comunque, una partita che si è giocata su ritmi molto alti. Ha dato anche tante indicazioni su quelle che potrebbero essere le prove di formazione anti-Fiorentina per la gara di domenica. Nel primo tempo è stato testato sulla destra Ali Adnan. Potrebbe essere un'opzione anche se poi nel secondo tempo ha giocato Silvan Wiedmer che sicuramente ci sarà nella gara di Firenze. Non sappiamo con quale minutaggio. Struger Larsen al pari di Berami è rimasto a lavorare in maniera personalizzata. I due non saranno arruolabili per la prossima trasferta. Chi invece potrà esserci nella lista dei convocati? È Danilo che ha giocato il primo tempo con buonissime indicazioni. L'infortunio è ormai praticamente alle spalle. Il suo rientro è sempre più vicino il brasiliano che ha davvero bruciato le tappe del suo recupero. Rientrati anche gli ultimi nazionali. Gli italiani Under 21, Simone Scofette e Giuseppe Pezzella. Sia il primo che il secondo hanno giocato la seconda frazione della partitella. Che ha visto un grande Ingelson due volte in rete. Un solito De Paul molto ispirato. Anche Lasagna l'ha segnato dopo aver promesso il gol alla Fiorentina. Lui che l'ha già segnato al Franchi con la maglia del Carpi. E al solito nel secondo tempo un ottimo Maxi Lopez che ha fatto vedere il suo ottimo stato di forma. Con Periz approvato anche di nuovo nel ruolo di vice Lasagna come esterno di attacco sulla sinistra. Tante quindi le indicazioni che andranno ovviamente a precisarsi nel corso dei prossimi allenamenti. Ci sarà poi la seduta di venerdì prima della rifinitura di sabato e la partenza per Firenze. E l'avete sentito è proprio per la gara di domenica che torna a disposizione Silvan Widmer. L'esterno destro di riferimento bianconero sembra aver recuperato la condizione dopo l'infortunio che l'ha visto protagonista nella gara di precampionato contro il Celta Vigo. E questo accade proprio in un momento fondamentale, in un momento delicato. Quello dell'infortunio di Struger Larsen. Un debutto stagionale tardivo nel mese di ottobre non può che aumentare la fame di calcare il campo. Silvan Widmer è finalmente pronto e nella trasferta del Franchi l'udinese potrà contare sul suo esterno destro di riferimento. Un momento chiave visto l'infortunio di Struger in nazionale, che potrebbe corrispondere anche ad un'altra prima volta. Quella della fascia da capitano che lo svizzero gradirebbe indossare dopo 107 gettoni con la casacca bianconera. Di fronte, una squadra indigesta contro cui Silvan è spesso andato vicino a punti esclamativi personali, colpendo un palo a dicembre 2015 e reclamando un rigore a febbraio 2017. Questa volta, oltre alla maledizione dello stadio della Fiorentina, ci sarà anche un duello particolare. Quello contro il freschissimo ex Cyril Theroux, che potrebbe giocare proprio sulla corsia di Widmer. Niente ruggini, ma dallo scontro individuale tra i due potrebbero nascere interessanti chiavi tattiche del match. E se il francese numero 77 ha già promesso esultanza in caso di gol, il terzino friulano vorrà ritrovare prima possibile lo spunto dei giorni migliori per difendere e ripartire con le sue accelerazioni. L'Udinese, dal canto suo, spera di poter ripetere quanto visto alla Dacia Arena, con l'altra vecchia conoscenza dell'attacco du Van Zapata, contenuto alla perfezione in un match vinto senza se e senza ma contro la Sampdoria. Ragionamenti che però immaginiamo non interessino granché a Silvan, il cui primo obiettivo sarà quello di riassaggiare il terreno di gioco e tornare a dimostrare la sua importanza nella truppa di Del Neri. E sono stati designati gli arbitri per l'ottava giornata di Serie A. Sarà il fischietto di Rati ad arbitrare Fiorentina Udinese, coadiovato da Dobos e Giallatini. Quarto uomo sarà Sacchi, Var Giavillucci e assistente Var Crispo. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda l'Udinese, ma tante le notizie di sport che vedremo ancora assieme, ma prima linea la cronaca. E allora torneremo tra poco da te Alice, cominciamo proprio dalla cronaca. Un normale controllo sull'autostrada A4 da parte della stradale e che cosa trovano gli agenti? Trovano bene 35 kg di hashish nascosti in un vano ricavato tra il sedile posteriore e il bagagliaio di una Volvo. Vediamo. Due arresti e un sequestro consistente di hashish. Come è andata? La pattuglia nell'ambito di un'attività di normali controlli che vengono svolti ordinariamente dalle nostre pattuglie sui veicoli in transito ha inteso approfondire il controllo proprio su questa Volvo S80 che successivamente poi è stata sequestrata. Da un approfondimento sulla targa emergevano alcuni fermi, alcuni gravami per fermo fiscale in quanto evidentemente non erano stati pagati alcuni bolli in passato. Questo ha determinato l'esigenza di approfondire il controllo anche sugli occupanti che avevano anche precedenti specifici per traffico di sostanze stupefacenti. Vista anche poi la vicinanza con la nostra caserma, il controllo si è svolto appunto nel piazzale antistante alla caserma dove è stata fatta portare la macchina. È emerso che nell'intercapedine che è realizzata poi artatamente tra il vano bagagliaio posteriore e i sedili posteriori era stato occultato questo ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Sono 35 kg di hashish. Diventano quindi sempre più fantasiosi, creativi, diciamo, i sistemi per nascondere la droga? Sicuramente sì, non è la prima volta che vengono ritrovati questi quantitativi di sostanza abilmente occultati. In questo caso il sistema era abbastanza ingegnoso, forse non era nemmeno la prima volta che veniva utilizzato un sistema del genere. Altre notizie che riguardano proprio la droga, Francesco? Forse volevano sperimentare un nuovo carburante dopo GPL, metano, come alternativa anche l'hashish. E allora sì, cocaina dal Sud America per i locali palermitani. Ci sono degli arresti anche ad Udine. L'operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Palermo riguarda capi e gregari di un mandamento mafioso. I componenti del clan sono accusati di traffico internazionale di sostanza stupefacente. La droga è arrivata in Sicilia direttamente dall'Argentina. Ma non è l'unica notizia che riguarda gli stupefacenti quest'oggi perché c'è un'altra che arriva da Pordenone dove la Guardia di Finanza ha sequestrato una coltivazione di marijuana che era stata piantata sui terreni del comune. La Guardia di Finanza ha arrestato una persona che è sospettata di aver piantato su un terreno comunale della provincia alcune piante di cannabis per produrre marijuana. Dopo la scoperta della piantagione e dell'identità del coltivatore in coordinamento con la Procura della Repubblica di Pordenone le fiamme gialle hanno perquisito l'abitazione dell'uomo e trovato 7,5 kg di marijuana, 90 semi di cannabis, 60 grammi di semi grezzi di cannabis e documentazione con i prezzi di vendita della sostanza. 8 euro al grammo fresca, 10 euro al grammo vecchia. Quindi un listino molto preciso, dettagliato. Parliamo ora di un brutto infortunio sul lavoro avvenuto a Staranzano, un operaio di 22 anni è rimasto schiacciato da una bobina. È grave. Grave infortunio sul lavoro a Staranzano, in via Chico Mendez, negli spazi di un'ex concessionaria di auto, un operaio di 22 anni è rimasto schiacciato da una bobina che probabilmente stava scaricando. Il giovane ha riportato un trauma toracico da schiacciamento, un trauma al bacino e uno a un arto inferiore. Dopo che gli sono stati portati i primi soccorsi in azienda, il ragazzo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Cattinara, Trieste, in codice rosso. Per quanto le sue condizioni siano molto serie, l'operaio non sarebbe in pericolo di vita. Oltre al personale medico, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Monfalcone insieme agli ispettori del lavoro. Le cause dell'infortunio sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. L'elisoccorso è dovuto intervenire anche a Cavazzo Carnico, in aiuto di un 37enne triestino caduto nella palestra di roccia di Sonplago. L'uomo è precipitato per una decina di metri dopo che qualcosa nella rampicata è andata storta. Nella caduta ha riportato gravi ferite che hanno reso necessario ricovere in ospedale a Udine. Ci sono stati anche altri interventi poi di salvataggio. Sì, oggi giornata intensa anche da questo punto di vista. Cade nel bosco, lo salvano gli uomini del soccorso alpino. Una notizia che andiamo a leggere dal sito diario di Udine. L'uomo classe 54 di Tolmezzo è stato raggiunto dai tecnici di soccorso e dai sanitari. È stato stabilizzato, imbarellato per essere poi trasportato a braccia fino al mezzo dell'ambulanza per essere poi condotto all'ospedale di Tolmezzo. Come dicevamo, non era l'unico soccorso. Ne arrivò un altro. Abbiamo ricevuto nella nostra casella postale, nella nostra email, al nostro indirizzo, un comunicato del Centro Nazionale di Soccorso. Un secondo intervento di oggi, un escursionista di Prata di Pordenone del 1976 ha chiesto aiuto questo pomeriggio intorno alle 15 dopo aver smarrito il sentiero di discesa dal Monte Sernio. L'uomo aveva raggiunto la cima del massiccio partendo dall'Ovea, nel comune di Artaterme, quindi dal versante sud occidentale. voleva scendere per la normale via attraverso Forca, Nuvier, Nulis, ma a seguito invece ha perso, a seguito delle tracce sbagliate, si è perso. Alla fine comunque è stato rintracciato, il soccorso alpino lo ha tratto in salvo. Cambiamo argomento. Oltre mille sono le richieste di finanziamento presentate dalle imprese artigiane della nostra regione per i finanziamenti a fondo perduto. Le istanze sono cresciute del 36% rispetto al 2016. Vediamo. Boom di richieste per i finanziamenti a fondo perduto per le realtà artigiane. I quasi 6 milioni di euro a disposizione sono andati esauriti, con un incremento del 36% rispetto allo scorso anno. Le istanze sono state complessivamente 1.076, contro le 792 del 2016 e le appena 334 del 2013. A tirare le somme è stato il Cata Artigianato FWG, la società creata dalle associazioni maggiormente rappresentative del settore artigiano del Friuli Venezia Giulia, nonché l'unico referente nei rapporti con la regione. L'impennata più evidente riguarda le richieste di contributo per le microimprese, che hanno raggiunto quota 604. Al secondo posto, le richieste legate allo sviluppo dell'artigianato artistico e quelle per contributi destinati all'adeguamento aziendale. Le istanze finalizzate all'avvio di nuove attività sono state 120, il 19% in più del 2016. Secondo il Presidente del Cata, Graziano Tilatti, innegabile la soddisfazione, sia per l'uso di tutte le risorse regionali a disposizione, che per l'incremento delle domande, risultati che però devono spronare ulteriori nuovi obiettivi. C'è poi un aggiornamento sulla vicenda Taglio a Varmo. Sì, perché si continua ad indagare e adesso sono stati anche prelevati, Giorgia, i filtri dei condizionatori dell'aria per provare a far luce sulla morte di due persone e sull'avvelenamento di altre della stessa famiglia. Sono stati infatti prelevati i filtri, leggiamo dal sito del Gazzettino, del deumidificatore e del condizionatore, che sono stati avviati in laboratorio per capire se contengono taglio. Questo perché la famiglia che vive a Nova Milanese, ricordiamolo, ha detto di aver tenuto acceso i due apparecchi per tutta la durata della vacanza estiva. Dunque potrebbe essere arrivato attraverso il deumidificatore e attraverso il condizionatore, una delle ipotesi ovviamente, il taglio che ha casoato la morte di due persone e l'avvelenamento di altre dello stesso nucleo familiare. Eh sì, si procede un passo alla volta ad analizzare tutto. Si procede un po' a tentoni, come si può dire, per provare a scoprire cosa è successo. Sida Catti di categoria dei trasporti. In agitazione contro la SAF per l'annunciata volontà di subappaltare diverse tratte provinciali e cittadine percorse dagli autobus. Sentiamo. Oltre 700.000 chilometri di tratte del trasporto pubblico locale in provincia di Udine sarebbero prossime al subappalto. A denunciarlo le segreterie sindacali di Filt CGL, Filt CISL, Will Trasporti e Faisa CISAL al termine del confronto odierno con i vertici di SAF. Le residenze extraurbane interessate da quello che viene definito uno scellerato programma aziendale saranno Udine, Codroipo, Gemona, Tarcento, Prosenicco, Cividale, San Giorgio, Cervignano e Tolmezzo. Tali subappalti, fanno notare dal sindacato, bloccheranno il turnover per tutto il 2017 e si rifletteranno drasticamente anche sui turni e sulla qualità della vita dei dipendenti con un abbassamento drastico dei lavoratori e delle loro retribuzioni. Considerando che la SAF non solo ha scientificamente mancato la risposta alle nostre sollecitazioni ma ci ha anche portato a conoscenza di futuri scenari pericolosissimi per le maestranze rimarcano i rappresentanti dei lavoratori abbiamo abbandonato il tavolo per dare un segnale forte e per mantenere fede alle promesse fatte nelle precedenti assemblee. Ora si procederà ad avviare immediatamente la cosiddetta procedura di raffreddamento prevista dalle normative vigenti e nel contempo i sindacati invitano tutti i lavoratori ad astenersi da qualsiasi forma di collaborazione con l'azienda accusata di scorrettezza e di aver pensato in questi anni solo ad ingrassare il proprio bilancio. L'invito finale agli autisti delle Corriere è di partecipare alle prossime iniziative di mobilitazione che verranno portate avanti sul territorio. Ci sono anche notizie positive per i trasporti? Sì, se sul fronte del trasporto su gomma si prevedono quindi tempi duri per i pendolari invece ci sono buone notizie che arrivano dai collegamenti su ferro quelli delle ferrovie appunto la OBB punta sul nord-est infatti sei nuovi treni diretti tra Venezia e Vienna partiranno a breve questi convogli di un e notturni fermeranno in Friuli Venezia Giulia, Tarvisio, Udine e Pordenone quindi di fatto aumenteranno la possibilità di collegamento tra Venezia e Udine, Tarvisio e Pordenone. Un'ottima notizia è il commento del comitato pendolari Alto Friuli che è stato il primo a dare appunto questa notizia. Facciamo un salto all'università? Sì, facciamo un salto all'università tornando un po' indietro nel tempo. Va bene, va bene, tornare un po' indietro nel tempo. Oggi è stato il primo giorno dell'anno accademico per l'Università di Udine lo sapete c'è l'inaugurazione ufficiale lunedì 13 novembre con Mattarella oggi invece c'è stato il discorso agli studenti di Dettoni in contemporanea, in tutte le sedi. Questo è successo per la prima volta, vediamo. Primo giorno di università per migliaia di ragazzi oggi tra le varie sedi dell'Ateneo di Udine e a portare loro il saluto di benvenuto c'era il rettore Alberto Dettoni. L'evento per la prima volta è avvenuto in collegamento multimediale con tutte le sedi dell'università presenti sul territorio. Assieme a Dettoni c'era la responsabile dell'area servizio agli studenti, Manuela Croatto. Beh, è il primo anno che l'Ateneo svolge un saluto di benvenuto a tutte le sue matricole in collegamento streaming con tutte le sedi universitarie il rettore racconterà un po' quello che facciamo per gli studenti al di là dei servizi di didattica che sono la ragione principale per cui gli studenti sono qua e poi presenteremo la grande squadra delle persone che si occupano di servizi agli studenti dai tutor, cioè studenti che accompagnano altri studenti al personale tecnico-amministrativo che segue tutte le procedure legate alla carriera degli studenti. Uno staff che è composto da quante persone? Allora, beh, lo staff degli amministrativi che si occupano di servizi agli studenti è composto da una trentina, 35 persone, compresi i servizi volontari del servizio civile. Più ci sono i 72 tutor, uno per ogni singolo corso di laurea. A seguire sono stati illustrati i principali servizi attivati dall'Ateneo ed è stato distribuito il Vademecum con le informazioni utili per vivere al meglio l'esperienza universitaria. Il prossimo appuntamento per gli studenti friulani e i loro docenti sarà lunedì 13 novembre con l'inaugurazione dell'anno accademico alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella chiamato ad omaggiare il quarantesimo di fondazione dell'università. Ancora un po' di cronaca, Francesco? Sì, ci spostiamo questa volta a Trieste perché un anziano ha smascherato un'altra truffa è la seconda in pochi giorni, se l'altro giorno leggiamo sulla pagina web del piccolo la vittima scelta dai truffatori era stata una donna di 85 anni ieri mattina i malviventi hanno preso in mira un nonno triestino anche in questo caso la vittima ha reagito facendo chiamare il 112 quindi sono sempre più frequenti questi tentativi di truffa, ci ricorda il piccolo ma vediamo anche che gli anziani riescono anche a reagire in qualche modo a dare l'allarme è molto importante ovviamente sensibilizzare su queste cose gli anziani a fare molta attenzione a non fidarsi di nessuno. Ma rimaniamo ancora a Trieste per un'altra notizia che arriva invece dalla Guardia di Finanza perché è stato sequestrato un carico di 26.000 litri di olio lubrificante contenuto in fusti di plastica l'ispezione si è svolta nella notte presso un'aia di servizio vicino al confine di Stato i documenti di trasporto del prodotto petrolifero stoccato in 26 fusti sono risultati non idonei a giustificarne provenienze e destinazioni oltre che l'effettiva natura per questo motivo dunque il carico è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza. Parliamo ora di cimici, di quella che è un'invasione, insomma tutti noi sui social vediamo postati vari video con queste case ricoperte quasi totalmente di cimici ebbene quali sono le contromisure che la regione sta portando avanti per aiutare l'agricoltura friulana che appunto viene messa in ginocchio dalle cimici. Ne abbiamo parlato stamattina a Buongiorno Friuli con l'assessore regionale all'agricoltura Siaurli. Mele, pere, kiwi ma non solo, interi campi divorati dal passaggio delle cimici il friuli continua a rimanere sotto scacco di questi parassiti. Solo nella Codroipese, come ha reso noto la Coldiretti, le perdite di raccolto arrivano al 90%. Un po' meglio è andata nella bassa friulana dove i danni raggiungono il 50%. Una questione che fa fatica a trovare risposte. Così si è espresso oggi durante Buongiorno Friuli l'assessore regionale all'agricoltura Cristiano Siaurli. Interverremo con il Fondo Emergenze in Agricoltura e continueremo sostanzialmente a dare una mano anche all'acquisto di retti. Abbiamo quest'anno intensificato anche la disposizione, di deposizioni in questo caso, di trappole contro le cimici, trappole fenormonali. Però le trappole sostanzialmente sono un palliativo, giustamente fanno vedere la presenza delle istituzioni che emette queste trappole, ma non sono quelle che possono risolvere il problema. Il problema si può risolvere solo con un intervento, da un lato contro l'animale, dall'altro lato anche probabilmente con lo stesso ambiente che riesce ad autogestirsi. Il calo dell'aumento sostanzialmente continuo negli anni in Emilia Romagna si è bloccato abbastanza repentinamente. Quindi non penso che ci vorranno decenni, probabilmente se voi pensate sembrava che il cinipito del castagno distruggesse i nostri castagni per sempre, per il resto invece in alcuni anni siamo riusciti a superarlo. Penso che si possa fare altrettanto con la cinipito. La proprietà delle cure e la tutela dei pazienti sono i temi a cui sarà dedicato il primo memorial Luigi Conte, promosso dall'Ordine dei Medici. Tematiche attuali e delicate, visti anche i recenti fatti di cronaca, legati a trapianti e protesi. Vediamo. La sicurezza e la proprietà delle cure, oltre alla garanzia di responsabilità dell'atto medico, saranno al centro del primo memorial che l'Ordine dei Medici dedicherà all'ex presidente Luigi Conte. Argomenti quanto mai d'attualità, su cui si confronteranno venerdì, dalle nove in poi, all'hotella di Moret, medici, ricercatori e infermieri. Le protesi, per esempio quelle dell'anca oppure quelle delle mammelle o di altre cose, bisogna che siano tutelati in rapporto ad una scelta specifica fatta dal medico. Purtroppo, alle volte, possono esserci delle imperfezioni in queste protesi che le rendono successivamente dannose o inutilizzabili. D'altra parte, la perfezione è difficile da raggiungere. Si vede a quante volte vengono richiamate anche gli automezzi che circolano. Se andiamo a vedere, per esempio, l'ultimo caso del trapianto di cuore in cui è stato donato un cuore che sembrava non idoneo al trapianto, non può succedere che ci sia la donazione di un organo non perfetto perché viene subito scartato in partenza. Ci sono tantissimi controlli e anche nel caso in esame, in realtà non si trattava di un cuore imperfetto, ma di una patologia che è subentrata probabilmente successivamente. Quindi la sicurezza delle cure, pur non raggiungendo il 100%, però sicuramente, a mio avviso, in quasi tutti i campi raggiunge ben il 99% e oltre. Altro giro di news, Francesco? Sì, altro giro di news, ancora cronaca. A Pozzuolo un furto con tre distributori automatici che sono stati depredati. L'episodio si è verificato nel corso della notte in Viale Europa. Poi abbiamo una notizia che è a metà tra la cronaca e lo sport. Pugni e schiaffi a un gruppo di tifosi, Daspo per un cinquantenne, il provvedimento è arrivato oggi, ma si riferisce ad un fatto accaduto nella prima amichevole della stagione dell'Udinese contro l'Annover, che in realtà non credo neanche fosse la prima. Comunque è arrivato in occasione di quell'amichevole contro i deschi dell'Annover, che quindi ha provocato questo Daspo per un cinquantenne. Poi purtroppo abbiamo una notizia che arriva dal mondo dello sport, ma è una notizia bruttissima. Rampogna, un giocatore, un'ala del Pordenone Rugby di appena 24 anni, è morto. Il suo corpo è stato rinvenuto nel parco delle terme romane a Torre. Eccolo qui. Uno splendido ragazzo pieno di vita, che purtroppo è stato strappato precocemente alla vita. ed è appunto la notizia pubblicata dal messaggero di questo pomeriggio, sito web. Passiamo agli appuntamenti per la prima serata di Udinese TV. Oggi è giovedì e quindi mancabile. Alle 21 torna l'appuntamento con l'agenda di Alberto Terasso. Udine è una città in cui il centrodestra sente il vento a favore e cerca di conquistare Palazzo d'Aronco, cioè il comune, dopo lustri di opposizione. Dall'altra parte, il centro-sinistra gioca sull'esperienza, sull'esperienza del suo apparato, sulla continuità rispetto alle amministrazioni che l'hanno preceduta e cercherà di resistere allo spirito del tempo che mi pare soffia in un'altra direzione. A Latere ci sono tante civiche, per cui bisognerà vedere quale sarà l'approdo finale di questi voti e all'interno del centro-sinistra la richiesta di un contatto maggiore con la cittadinanza, con i suoi problemi, di un dialogo più forte anche con chi non la pensa a sinistra come la maggioranza. Insomma, parleremo questa sera nell'agenda alle 21. La politica dunque, sono ore calde anche a livello nazionale? Sì, a proposito di 21, alle 21 sarà in onda il nostro Alberto Terasso, ma alle 21 probabilmente ci sarà anche il voto finale alla Camera per l'approvazione del cosiddetto Rosatellum, cioè la legge elettorale, Giorgia. Stiamo vedendo le immagini che arrivano proprio dal sito di Repubblica in collegamento con la Camera, dove c'è la diretta in streaming. Sta parlando adesso l'onorevole Mazziotti Di Celso del gruppo misto, civici e innovatori per l'Italia. Stanno tenendo un po' tutti gli interventi dei parlamentari e poi si voterà forse alle 21. Noi torniamo a parlare di sport invece. Parliamo di sport, Giorgia, parliamo di basket udinese, perché lo stesso percorso accomuna sia la formazione maschile che la formazione femminile. Alle porte una nuova sfida sia per la GSA che per la Delser femminile, entrambe alla ricerca di un riscatto dopo le ultime giornate di campionato. Il fattore C per tornare a vincere e trovare fiducia. Destini comuni per il basket udinese maschile e femminile, con la GSA e la Delser chiamate davanti al pubblico del Carnera a riscattare le rispettive sconfitte dell'ultimo turno di campionato. La squadra di Coach Lardo viene dal KO interno con la F scudate e da quello di Mantova, figlio quest'ultimo di troppe prestazioni individuali ancora sotto tono e del poco carattere messo in campo negli ultimi decisivi momenti dell'incontro, proprio quando invece sarebbe servito quel qualcosa in più per distanziare l'avversario. Domenica alle 18 arriva Ravenna, uno dei team che dopo Treviso, Trieste e Fortitudo si piazza tra le teste di serie per la promozione. Si deve ripartire per forza dalle note positive. Il carisma di Weidemann, i tiri pesanti di Pinton, il dex d'inizio match e la maturazione di Diop possono dare sicurezza al gruppo e se gli altri riusciranno a seguirne la scia la vittoria non potrà non arrivare. Sarà Milano invece l'ostacolo di sabato sera per le ragazze di Malipomilio, alle quali è probabilmente mancata solo un po' di fortuna in più per piazzare il colpaccio a Sesto San Giovanni. Una Delser che può giocarsela con tutte, specie se le varie Blasevic, Vicenzotti e Pontoni manterranno l'ottimo rendimento di questo avvio di stagione. Successi vittorie invece continuano a collezionarli le ragazze del Tavagnacco fra le quali spicca un nome, quello della scozzese Lara Clelland. I 23 gol della scorsa stagione le sono valsi il titolo di capocannoniere della serie A femminile. Ora un altro inizio di campionato con numeri da brivido, ben sette le marcatura in soli due incontri. Lana Clelland, la bomber scozzese del Tavagnacco, continua a stupire con le sue giocate e la disarmante facilità di trovare la rete. Una campionessa dal gran carisma dentro e fuori dal campo. Dotic, il presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini, ha voluto premiare in un incontro ufficiale a Palazzo Belgrado con diverse compagne di squadra presenti ad applaudirla. La Clelland è una fortissima giocatrice, riesce a realizzare una quantità di gol incredibile. Quindi è una ragazza importante, come sono importanti anche le altre giocatrici. È una squadra bellissima, quella del Tavagnacco. Secondo me riesco a dare a queste ragazze, anche agli spettatori che assistono a queste partite, veramente una bella immagine del calcio fatto dalle donne, che secondo me non ha niente da invidiare a quello degli uomini. anche loro giocano bene, con grande dinamismo, grande impegno e anche con una tecnica che insomma dà lustro alle loro capacità. Ringrazio il presidente e la provincia per questo bellissimo premio e ringraziare anche la squadra che mi continuano ad aiutare ogni giorno. Qual è il segreto per fare così tanti gol? Di avere 10 persone dietro di me, di aiutarmi ogni volta. Una bellissima risposta a quella di Lana Clelland. Allora con queste immagini della premiazione e la sua intervista noi abbiamo terminato. Linea a te Giorgia. Grazie Alice. Grazie anche a te Francesco. Terminato in perfetto orario tra l'altro. Complimenti a noi. Va bene. Celebriamoci ogni tanto. Ogni tanto. Grazie a voi come sempre che ci avete seguito. Buon proseguimento di serata su Dinesi TV. Buonasera. Grazie a tutti.